Buongiorno a tutti, ancora pochi giorni ed inizierà il nuovo anno scolastico. La macchina organizzativa sta mettendo a punto le ultime cose e quindi a me, in qualità di assessore all'istituzione pubblica, non resta che fare gli auguri a tutti quanti, agli alunni, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti, al personale alta, insomma a tutte quelle persone che lavorano e vivono all'interno del mondo della scuola. Per quanto riguarda l'amministrazione, la novità di quest'anno che entrerà nelle case di ogni famiglia sarà questo tuscolo che contiene tutte le informazioni utili appunto per accedere ai servizi scolastici. Quindi, ultimi giorni di vacanze, raccogliamo tutti le energie necessarie per affrontare al meglio questo nuovo anno scolastico. Grazie e buona giornata!